Di Pangrazio ne ho letto consigliere regionale, il dato che emerge da queste elezioni, questa campagna 2014 è che il Partito Democratico ha aumentato i propri voti, complessivamente in intera provincia dell'Aquila. Sì, tutti e tre i territori, questa volta direi il quarto territorio che è l'Alto Sangro, hanno marciato in sintonia, grande risultato, quello che a me ha stupito, oltre alla tenuta qui in città dell'Aquila che poteva essere anche scontata, ma non perché ci vuole passione, sacrificio e buon governo che è stato dimostrato dall'amministrazione del sindaco Massimo Cialenti, ma soprattutto in Avezzano e nella Marsica, dove il Partito Democratico è diventato il primo partito raggiungendo circa il 26%, mettendo all'angolo il Movimento 5 Stelle a 22% e Forza Italia all'11%. Dato straordinario, pensare solo che all'Europa 2013 era all'inverso, quindi è stata ottima la scelta di mettere tre candidati importanti sul nostro territorio, questo ha portato circa a 13 mila voti di preferenza, che non sono molte, rispetto alle 21 mila prese in totale. Quindi grande affermazione dei territori, partiti in risalita, lì il segnale è evidente, ora bisogna fare una grande squadra sulla città dell'Aquila, c'è bisogno, fatto bene Luciano D'Alfonso a dire, metterò un'assessuale alla ricostruzione, vuol dire partecipazione della regione a questo grande fenomeno, che è la ricostruzione aquilana, cosa che in passato non c'è stata. Vanno valorizzati i giovani, le esperienze, ma soprattutto va valorizzato il partito della provincia dell'Aquila, che ha dato grosso contributo, circa 35 mila voti di lista, quindi territorio della montagna, tutte e tre le macro aree marceranno insieme. Io sono convinto che Luciano D'Alfonso questo riconoscimento e quindi valore ed evidenza ai candidati lo darà, perché questo è giusto che sia, ma soprattutto perché è nel suo programma.